...dalla nostra redazione nelle scorse volte... ...sta per entrare in cucina... ...finalmente dopo mesi di attesa... ...dopo mesi di attesa se vuoi dire qualche cosa... ...ascolta... ...emozionato, emozionato... ...sai che l'attesa è sempre... ...è sempre bella... ...per cui più... ...più uno è ricercato... ...sei carico? ...adesso stasera facciamo delle salamelle eccezionali... ...e facciamo anche l'esperimento scientifico... ...la salamella che cammina sulla griglia... ...e adesso facciamo far sentire il sapore... ...dai...